Lilian Baldo, la mamma di Bruna Bovino, l'estetista uccisa nel centro massaggi di Mola il 12 dicembre 2013, è tra i testimoni dell'accusa ascoltati nella nuova udienza nel processo per l'omicidio della figlia. Prima di lei è toccato l'ex marito della vittima, Aldo Sibilio, da cui Bruna ebbe un figlio, oggi 10 anni, che vive con un'anzia materna. Unico imputato, l'ex negli ultimi due mesi di vita di Bruna, Antonio Colamonico, arrestato d'aprile 2014. Nell'esame dell'accusa, sostenuta dal procuratore Bruno, e nel controesame della difesa, rappresentata dall'avvocato Chiusolo, l'attenzione si è incentrata sulla figura di Pasquale Desario, l'uomo con cui Bruna ebbe una relazione tra il 2011 e settembre 2013 e da cui nacque una bimba, affidata ai genitori di lui. Un uomo complicato, che sperperava il denaro e si appoggiava economicamente sulla compagna. Una storia, sarebbe emerso durante l'udienza, turbolenta, segnata da liti continue, furibonda quella avvenuta a giugno 2013 a Polignano, in occasione della comunione del figlio più grande di Bruna, nato dal matrimonio con Sibilio, e poi da minacce, dopo le fine della storia, continui messaggi inviati alla mamma di lei. Mi diceva che Bruna nel centro faceva massaggi erotici, ha riferito in aula Lilian, ma perché era molto geloso, era ossessivo. Lo era anche Colamonico, ma da lui, addetto incalzata dalla difesa, le faceva piacere riceverli. Al processo, oltre ai parenti della vittima e a Desario, si sono costituite parte civile la Regione Puglia, per la prima volta in un processo per femminicidio, e le associazioni antiviolenza Safia e Giraffa. Prossima udienza il 3 dicembre.